Molti dei problemi avuti in campo dal Pescara nell'ultima stagione sono derivati da alcune disfunzioni del centrocampo. Ecco che grande attenzione sarà dedicata nel prossimo mercato a quello che non a caso viene definito il reparto nevralgico. Molto dipenderà dalla permanenza o meno di Gaston Brugman, anche se il capitano ha mercato ed è probabile la sua cessione. A quel punto resterebbe un solo giocatore sotto contratto, Mattia Proietti, l'ex Bassano, legato alle Delfino fino a giugno del 2021. Era un pilastro designato nel centrocampo di Zeman, ma il problema al ginocchio prima e quello al tendine di Achille poi lo hanno relegato ad appena sette presenze in campionato, l'ultima delle quali lo scorso 10 febbraio. Valutazioni andranno fatte sul suo effettivo recupero e sulla sua funzionalità nel progetto tecnico di Pillon. Il fatto che si giochi ancora col 4-3 può essere un vantaggio. Proietti potrà essere vice Brugman o vice di chi arriverà al posto dell'uruguaiano, più difficile che sia lui il titolare del ruolo. Balsania tornerà all'Atalanta e forse avrà qualche chance di giocarsela con il gruppo di Gasperini. Coulibaly farà ritorno all'Udinese e l'entourage bianconero vorrà prima valutarlo in ritiro e successivamente prendere decisioni sul futuro del giocatore senegalese. Anche Marco Carraro rientra alla base. L'Inter ha delle offerte sul piatto, visto che il calciatore ha attratto l'attenzione di diversi club, anche di Serie A. E allora, tra le possibili conferme via quella di Andrea Palazzi. Praticamente certo il rinnovo del prestito da parte dell'Inter. L'ex Provercelli ha giocato nove partite nel campionato col del Delfino prima del grave infortunio occorso alla Spezia ed ora in riva l'Adriatico punta ad una stagione di rilancio. La dirigenza del Pescara è al lavoro anche per trattenere José Macin e anche in questo caso si tratterebbe di un rinnovo del prestito fatto dalla Roma. Il Pescara giudica troppo alto il milione e mezzo di euro per esercitare il diritto di riscatto per l'acquisizione definitiva del cartellino. I nomi nuovi per il reparto sono Ledyan Memuschai, Marcel Buchel e Luca Ricci. I primi due nuovi in toto non sono. Memuschai del Pescara è stato capitato fino allo scorso agosto quando è stato ceduto al Benevento. Il centrocampista albanese tornerebbe volentieri in riva l'Adriatico. La sua esperienza in terra sannita non è stata affatto positiva. Il giocatore ha altri due anni di contratto con gli stregoni e bisogna trovare la formula adatta per il suo ritorno. Buchel già in passato è stato accostato al Pescara, ha appena chiuso la stagione in prestito col Verona e da un altro anno di contratto con l'Empoli, appena promosso in A. Difficile che i toscani ci puntino e allora il DS Leone potrebbe portarlo a Pescara senza grossi sacrifici economici. Luca Ricci è un giovane classe 99 che quest'anno si è messo in luce con il Gubbio in Serie C. 24 presenze tra campionato e Coppa. Il Pescara è interessato, può acquistarlo o riceverlo in prestito da uno dei club di Serie A che hanno messo gli occhi sul centrocampista centrale Umbro.